Musica Guardi, è il terzo anno consecutivo che riusciamo a raggiungere questo lavoro di squadra perché il nostro è un lavoro di squadra, l'agenzia ha sempre creduto nel mondo welfare continuiamo a crederci e se continuiamo a essere qua è perché forse il nostro obiettivo che pian piano cerchiamo di raggiungere e ci darà ragione, quindi grazie Speriamo di vederci anche l'anno prossimo Assolutamente, grazie